Francesco ci racconta Sono nato in provincia di Milano nel 1981 Ricordo che per me è stato tutto difficile, fin dall'inizio perché mia madre ha avuto un ictus poco dopo la mia nascita Così sono cresciuto principalmente con mio padre che si è ritrovato costretto a ricoprire due ruoli alla fine quello di mamma e quello di papà Mio padre mi è stato dunque sempre accanto mi ha educato, mi ha insegnato molte cose mi ha guidato nella mia crescita, ha fatto il meglio che poteva Però crescendo ho cominciato a capire sempre di più che dentro di me continuava ad esserci una mancanza inconscia ma determinante quella di mia madre una mancanza che spesso ho cercato di colmare in tanti modi anche prendendo strade sbagliate Adesso me ne sto rendendo conto e sto cercando di rimediare a questa mancanza però attraverso delle strade nuove Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti